Questa mattina diversamente da altre volte su questo palco ci saldo con tristezza, amarezza e indignazione. Indignazione perché penso a quante migliaia di risparmiatori, di persone che hanno lavorato e si sono sacrificate per una vita, sono state derubate e spogliate dei loro sacrifici. Questo è successo, queste sono le parole che dobbiamo purtroppo utilizzare oggi. Abbiamo visto nel corso di questi giorni un vergognoso teatrino tra Renzi e Juncker, sono stati a litigare da una parte all'altra facendo finta peraltro di litigare, di discutere, di scontrarsi. Da un lato abbiamo un premier che continua a dire che è colpa dell'Europa perché sta cercando in tutti i modi di creare questa famosa bad bank nella quale deve andare a scaricare le zonzerie e i titoli deteriorati da parte di questo sistema bancario che è andato completamente fuori controllo. Dall'altro lato invece abbiamo la Commissione europea che dice che non si può fare, non è possibile, non si può procedere in questo modo. Bene, questo è teatro, è completamente teatro, è falsità. Questo è uno squalito teatrino in cui fanno finta di dire che non ci sono responsabilità, ma le responsabilità ci sono e ci sono anche nomi e cognomi che vanno fatti. In Europa e in Italia, nei confronti anche del signor Juncker, il famoso santo patrono di evasori e delusori fiscali da tutta Europa che fino a quando è stato premier dell'Ossemburgo invece è stato ben lieto di concedere e dare aiuto al sistema bancario europeo. Cosa è successo quindi? Che adesso ovviamente Draghi ha dovuto inviare degli ispettori e questi ispettori cosa vorranno fare? Dovranno procedere a verificare i bilanci di queste banche e probabilmente quei crediti deteriorati che prima valevano 40 adesso andranno a sbattere magari al 23%, verranno completamente svalutati. Svalutati come se noi andassimo oggi con una collana d'oro dentro una gioielleria che prima valeva 400 e adesso varrà 230. E secondo voi chi dovrà mettere questi 230 euro? Chi sarà chiamato a pagare poi la differenza di 170 rispetto a 400? Ve lo dico io, noi. Sì, perché quando qualche anno fa nella scorsa legislatura europea hanno approvato la famosa direttiva sul Belin, questo sistema che è stato venduto come il modo per evitare di mettere le mani nelle tasche dei contribuenti, vi hanno mentito, non è vero, non è vero. Continuano ad andare nelle televisioni a dire che in ogni caso chi ha un conto corrente al di sotto dei 100.000 euro sarà garantito, non avrà alcuna problematica, non è vero. Volete sapere quanti soldi ci sono nel fondo di garanzia creato sempre dal sistema bancario privato in Italia? 4 miliardi, 4 miliardi a fronte di 500 miliardi di euro di depositi delle sei banche coinvolte. E cosa succederà eventualmente poi, una volta esauriti i fondi di questo fondo di garanzia? Ebbene, è molto semplice. O si procede di nuovo con il bailout, quindi prelevare ulteriori miliardi dalle tasse dei contribuenti. Oppure ci si dovrà riforngere il famoso MES, il famoso Fondo Salva Stati, lo chiamano loro. Fondo Ammazza Democrazia, lo chiameremo noi, vedendo quello che è accaduto in Grecia nel corso di questi anni. Fondo Espropria Democrazia. Vi vengono a dire che non ci sono responsabilità politiche. Sembra quasi che questa crisi delle sofferenze bancarie sia emersa così da un giorno all'altro come se fosse un terremoto o come se fosse un'inondazione. Non è vero neanche questo. Proprio l'altro giorno a Strasburgo è stato votato un report. Il famoso report BALS, si chiama. In questo rapporto hanno detto semplicemente innanzitutto che il bail-in è cosa buona e giusta. Quindi andare a rifarsi sul piccolo obbligazionista truffato dai bordi della banca che gli hanno venduto titoli che invece non davano garanzia ed erano rischiosi è cosa buona e giusta. Andarsi a rifare su un correntista che ha più di 100.000 euro è cosa buona e giusta. Come se ci fossero correntisti e risparmiatori di serie A e di serie B. Volete sapere con quali voti è passato questo report al Parlamento europeo? Con i voti del BPA, del gruppo dei socialisti e democratici. E sapete chi fa parte di questi gruppi? Il Partito Democratico, Forza Italia, NCD, gli stessi che poi vengono a piangere, a fare lacrime di coccorrillo e vi dicono ce lo chiede l'Europa. No, lo votate in Europa. Siete responsabili di quello che state votando. Perché in quel report c'è scritto anche che i titoli di Stato non saranno più risk free, a rischio zero. No, devono essere considerati a rischio anche quelli. E questo vuol dire aprire voragini di bilancio all'interno dei bilanci delle banche che ne hanno in pancia centinaia di miliardi. Loro prima le votano in Europa, come hanno fatto con il Belin, e poi dicono eh non è colpa nostra. No, se tu spingi un bottone ti prendi una responsabilità nei confronti dell'elettorato e la devi pagare. La devi pagare. E anche noi però non ce ne dobbiamo dimenticare. Quando ci andiamo poi a regare nelle urne per votare i governi dobbiamo chiedere a queste persone di rendere conto, di rispondere delle scelte politiche che fanno in Italia e in Europa. Peraltro bisogna anche constatare una cosa, che come al solito ovviamente ci sono figli e figliastri. Ci sono paesi di serie A e di serie B. Perché vedete, a parte il fatto che noi critichiamo la scelta della bad bank, perché ci sono altri modi per poter risolvere questa questione e poi ve li esporrò alla fine dell'intervento. Qui c'è un'altra constatazione da fare. Che mentre per l'Italia queste strade sono precluse per altri paesi, Spagna, Irlanda, ma soprattutto Germania, non si è battuto ciglio. Nel novembre una banca tedesca, la Nord Bank, era esposta per 3 miliardi di euro. La commissione immediatamente ha permesso l'aiuto di Stato senza battere ciglio. Perché qui vi raccontano che in Europa tutti gli Stati sono uguali e noi invece vi rispondiamo che purtroppo la Germania e i suoi alleati sono più uguali degli altri. E questa è la verità. E non abbiamo paura di dirlo nelle piazze, perché possiamo dimostrarlo. Renzi ormai è completamente perso, non sa dove sbattere la testa, viene a chiamarci gufi, detrattori, persone che suscitano allarme sociali. In realtà non sa dove sbattere la testa, non sa a che santo rivolgersi, perché da un lato è schiacciato da un sistema in cui la banca centrale non fa il suo lavoro, che è quello di essere prestatore di ultima istanza, garante dei depositi e dei risparmi di cittadini. E dall'altro è strozzato dai vincoli di bilancio che ci hanno imposto con la moneta unica e con l'austerità e con il successivo fiscal compact. Ci dicono che non ci sono soluzioni, invece noi ve le diamo le soluzioni, perché siamo andati in Europa, abbiamo studiato e vi possiamo dire ad esempio che ci sono paesi scanninate, che le banche quando si trovano in questi contesti le hanno nazionalizzate. Nazionalizzare a costo per zero, ristrutturare e vendere e alla fine lo Stato, le nostre casse vanno anche addirittura in saldo positivo. Si devono rifare sui correttisti? No! Ci vogliono sanzioni vere, penali, pecuniarie, per gli amministratori, per i revisori che non hanno fatto il loro lavoro, per un management che non è stato adeguato all'altezza e si è lasciato corrompere dalla politica. C'era un cartello che diceva PD più banche e cancro. Ecco, quel cancro va curato e bisogna andare a colpire gli agenti cancerogeni, devono rispondere. Poi come ho detto prima, la banca centrale deve, come tutte le banche centrali di questo mondo, come la Fed americana, essere il prestatore di ultima istanza. Bisogna riprenderci questa sovranità monetaria. Ancora, dobbiamo andare a mettere un limite, l'avevano promesso nel 2008, non l'hanno mantenuta, ai mercati finanziari, all'utilizzo degli strumenti tossici, dei derivati. Non è bastata la crisi del 2008. Va messo un limite. Non si può giocare in questo modo con i risparmi e con la vita delle persone. Questi strumenti vanno tolti. La finanza deve tornare finalmente al servizio dell'economia reale e non viceversa. Noi proponiamo ancora che finalmente le banche di affari e le banche di speculazione vengano di nuovo ridivise con un nuovo Classical Act rispetto alle banche di risparmio. Non ci deve essere commissione, non ci possono essere rischi sistemici con i nostri risparmi. Devono essere attività separate come lo erano prima. E di fatti, dalla crisi degli anni 30 poi non se ne erano mai più verificate di questo tipo, proprio perché si era capito che quello era uno dei mali. E da ultimo bisogna avere il coraggio di rimettere in discussione questa politica monetaria. Schäuble ha avuto la sfacciataggine di dirlo che l'euro non è solo una moneta. L'euro è una politica economica e ha ragione Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, il falco dell'austerità che voleva completamente far fallire la Grecia e mette alla ginocchia. Ha ragione, l'abbiamo vista questa politica economica. È una politica economica che in nome del pareggio di bilancio si fonda su Italia alla sanità, al welfare state, ai servizi pubblici essenziali, sulle privatizzazioni, sulle speculazioni. La possiamo riassumere in un principio sul primato del profitto sullo Stato di diritto. E noi questo non lo accettiamo né oggi né mai. Il Movimento 5 Stelle in Europa, in Italia, non lo accetterà né oggi né mai. Io c'ero l'anno scorso ad Atene, alcuni dei miei colleghi nazionali eravamo lì in piazza. quando abbiamo visto la Troica e anche i lustri rappresentanti delle istituzioni, anche il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, che dovrebbe garantire neutralità, fare campagna contro, condizionare, terrorizzare e minacciare un popolo indipendente. Abbiamo visto il risultato del referendum, abbiamo visto il ricatto e il tentativo di compravendita nei confronti di Cifras. Abbiamo visto come hanno commissariato una democrazia e hanno detto che il risultato di questo voto non conta. La linea la dettiamo noi. E sarà quello che vogliono dipingere anche per l'Italia. Vogliono portarci alla fine a fare ricorso al MES, il famoso fondo saldastati di cui vi parlavo prima, perché vogliono mandare anche qui gli ispettori della Troica a fare quello che neanche questi ultimi scandalosi governi antidemocratici non eletti da nessuno non hanno avuto il coraggio di fare. Devono portare a completamento l'opera. Allora noi possiamo scegliere due tipi di strategie. O diveniamo acquiescenti, facciamo finta di niente e glielo permettiamo, oppure reagiamo, scendiamo in piazza come oggi e cominciamo a alzare la nostra voce e a dire la verità. Perché queste persone non vanno avanti con le parole dei criminali, vanno avanti con il silenzio degli onesti. E noi non possiamo rimanere in silenzio. E proprio perché non possiamo rimanere in silenzio e vi chiedo oggi, con tutta la forza che ho, vi prego, seguiteci, sosteneteci, criticateci, metteteci in discussione, ma per amor di Dio informatevi e condividete queste informazioni con tutti, con i vostri vicini di casa, con i vostri colleghi al lavoro. Fate circolare queste informazioni perché di tempo non ne è rimasto molto. Riprendiamoci la nostra dignità, difendiamo la nostra costituzione e i nostri diritti costituzionalmente garantiti per i quali i nostri nonni hanno combattuto. Non ci resterà, altrimenti verrà scavalcata il nome del profitto e noi non possiamo permetterlo. La reazione parte da oggi, la reazione, se vogliamo, parte anche da questa piazza. Dobbiamo combatterli e costringerli a recedere dai loro propositi. Possiamo farlo. se non ora, quando? Se non ora, quando? Grazie. Grazie Massimo, grazie veramente, grazie, 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 grazie.